Ritorniamo su Via Carlicina. Elenca i lavori di manutenzione che partiranno a giorni. Il presidente del gruppo AGSM di Verona, Fabio Venturi. Lavori che attendevano da anni e che interesseranno un po' tutta la città. A cominciare dall'Ungadige, San Giorgio. Il cordone ombelicale della città scaleggera che aspetta da anni in vano una soluzione che ne alleggerisca il traffico. Sarà un'estate piena di cantieri? Sarà un'estate bella calda, speriamo dal punto di vista climatico, ma anche dal punto di vista dei lavori. Forse l'estate più importante per i cantieri di AGSM perché abbiamo deciso insieme all'amministrazione, insieme agli assessori Pisa e Lella di investire parecchie risorse per rifare le strade che abbiamo danneggiato per i cantieri nostri, per rendere ancora più sicura la nostra città. Da adesso iniziano parecchi, sono circa 150 i cantieri di asfaltatura che abbiamo in ballo, poi ci saranno quelli dell'assessorato alle strade, dell'assessorato al decentramento, per cui penso che la città a fine di questa stagione sarà, non dico nuova, ma quasi. Le preoccupazioni legate ai disagi ci sono tutte, ma i responsabili sono ottimisti, grazie anche ad una notevole campagna informativa e non solo, perché con i lavori partiranno anche operativamente i guardi a cantiere. Come mai che vi siete impegnati, che avete dato la disponibilità? Perché io sono sempre stato disponibile, non solo per la GSM, ma anche per altri. Siccome sono anche un tecnico, ho fatto anche il progettista, e me ne intendo io di questi lavori qua, e mi piace farlo nel tempo libero, ho anche i nipoti, però alla fine il tempo libero lo trovo. Vedi, adesso insieme con il mio amico Luigi abbiamo attaccato tutti i cartelli, con volontà, alle 6 e mezza eravamo già qua questa mattina, ma oltretutto è anche per essere un onesto cittadino veronese, il quale fare il proprio dovere, anche per avere qualcosa di utile da dare a qualcuno. Quando si parla di lavori stradali, uno naturalmente comincia a preoccuparsi, poi qui saranno anche sette mesi, ma ci avete pensato? Ma guarda, sette mesi, ma era da tanti anni che i cittadini ci chiedevano di intervenire in questo Lungadige, in questa zona importante del Comune di Verona, del rifacimento di questo manto stradale del Lungadige. Perciò siamo contenti di intervenire perché grazie alla GSM andremo a riqualificare uno dei posti più belli di Verona a ridosso delle nostre torricelle e a ridosso del centro storico.